ciao a tutti ben ritrovati con un nuovo appuntamento oggi è la scoperta di un nuovo gruppo musicale sto parlando dei lost weekend e ho il piacere di avere con me andrea ciao andrea ciao ciao a tutti lost weekend weekend siete quelli del weekend voi si sono quelli che perdono il weekend a trovarsi e a suonare da un bel po di anni com'è nato questo gruppo nel gruppo nasce all'inizio degli anni 90 quando prendeva molto piede rock più americano lasciare un po l'aggettivo americana diciamo così ferrara una città grandissima le band i diciottenni di allora ascoltavano molto negli anghias prinstein dylan e c'era questa bella moda di andarsi a cercare uno strumento e poi trovarsi per suonare la band nasce al 90 91 io sono arrivato nel 2000 quindi comunque sono già 16 anni che suono con i lost weekend quindi voi rappresentate la musica l'americana sì sì allora americano influence tra anche rolling stones spring steam poi cose tra virgolette minori che poi scopri negli anni con la con l'evolversi del gusto anche tuo e di tutti avete partecipato anche diversi festival avete comunque fatto manifestazioni in diversi circoli e quindi proponendo sempre per i canzoni originali anche se la cover però tra l'altro giusto c'è alcune cover proprio le fai per passione anche perché è un po per divertimento tuo e di chi ti ascolta e siamo in cinque siete in cinque vuoi salutare gli altri del gruppo paolo nicola diego e michele tu invece sei che ruolo hai nel gruppo andrea batteria e poi ho seguito molto da vicino il discorso della registrazione del cd nel senso che l'abbiamo registrato dove abitavo ho curato i primi mix insieme a paolo ci abbiamo lavorato diciamo un bel po' e poi avete realizzato un alzo che si chiama From Shine Till Rust e il nuovo singolo in promozione che oggi andiamo a presentare è Pro Working Man vuoi presentarlo tu agli ascoltatori? Sì, Pro Working Man un bel rock and roll stradaiolo e questo è il pezzo buon rock a tutti buon rock a tutti vuoi dire qualcosa agli ascoltatori? ascoltate? ascoltateci seguiteci noi stiamo partendo adesso con diverse date speriamo di arrivare un po' anche dove non siamo mai stati e questo è il senso del rock che può fare strada tanta strada and it's always been a Pro Working Man i vostri contatti? i nostri contatti voi cercate su qualsiasi motore di ricerca Lost Weekend Ferrara e usciamo noi la pagina Facebook è quello il contatto più dinamico dove siamo Lost Weekend The Band abbiamo il sito lostweekend.it e anche il canale Youtube Lost Weekend Channel e qui si possono trovare tutte le vostre date dei live dei prossimi appuntamenti previsti giusto? esatto esatto correttissimo altri progetti nel cassetto? altri progetti si va sempre avanti ora stiamo stiamo rimettendo un po' in ordine certe idee abbiamo già pezzi nuovi da mettere sotto e comunque promuovere anche Froschite in Rust che è il nostro disco e continuare continuare ad andare avanti riprendere le nostre registrazioni e così via beh allora che dirvi in bocca al lupo per tutto ragazzi io dicevo sempre crepi il branco ma povero anche il lupo giustamente Andrea ti ringrazio per la tua disponibilità è stato un piacere stare con te oggi a presto grazie a te a voi tutti e buon ascolto grazie ancora buona musica ciao Andrea ciao grazie ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti